Tre amici, passione per la pizza, amore per il territorio. Nasce così cinque anni fa da zero. Da un piccolo centro in provincia di Salerno, Vallo della Lucania, nasce l'idea di esportare il concetto di Cilento in tutta Italia. Noi ci ispiriamo a un concetto di pizza che è quello che proviene dalla scuola classica napoletana. Abbiamo inteso caratterizzarla usando un mix di farine che potesse dare quella giusta impronta di rusticità in più perché potesse diventare la nostra pizza. In ogni nostra pizzeria i prodotti cilentani sono alla base del menù. Dai semplici pomodori, il figo bianco del Cilento, la soppressata di gioie. La pizza e il prosecco sono due momenti di gioia, di condivisione. Il prosecco è un vino da condividere, è un vino di gioia. Ecco perché lo immagino immediatamente con la pizza. La nostra marinana cilentana è una pizza che naturalmente penso possa abbinarsi con il prosecco. Un abbinamento col prosecco può essere interessante per vari motivi. Uno di questi è sicuramente la presenza di un altro prodotto simbolo delle nostre pizze che sono le alici di Menaica. Le alici di Menaica prendono il nome dalla rete con la quale vengono pescate. Matera tirapisce per la bellezza dei luoghi, un posto di commistione fra il moderno e l'antico. Il tutto scandito darà un ritmo che ancora fluisce lento, ancora dà importanza ai vari momenti della giornata. Grazie per la visione! Grazie per la visione!